Aaaaaaah! Hola! Io sono Bifido, vengo da Napoli, in Italia. Faccio le mie fotografie, le stampo di grandi dimensioni e le incollo alle pareti. Il lavoro qui a Labanese è stato molto interessante perché ho potuto lavorare su un muro totalmente distrutto, che era quello che cercavo, fatto su più stratificazioni e più livelli. Quindi è stata una bella sfida. Io penso che l'arte urbana sia importante ma deve sempre mandare dei messaggi alle persone perché l'arte urbana da sola non può cambiare le cose, non può cambiare le città. Quindi io sono per un'arte urbana non decorativa, aggressiva. Di solito o vado nei posti e lavoro con la gente del posto, oppure fotografo delle persone che scelgo io e sono sempre bambini. Io mi piace lavorare con i bambini perché penso che i bambini sono i pochi anarchici in questa società. Il significato di questo muro è dentro di voi. Mi è piaciuto molto essere e stare qui al festival. L'organizzazione è fantastica, i ragazzi sono fantastici. Voglio fare tutti i muri rotti di Labanese. Venite ad Art Aereo Wrap perché c'è il mio muro e il più bello di tutti. Grazie. 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 Grazie.